Buongiorno a tutti i cittadini di Roccatevandro. Siccome siamo stati sollecitati più volte a presentare un'accolta firme per i servizi dell'acqua dovuti soprattutto nelle zone di Casamarina, Mortola, Cucuruzzo, su tutto il territorio di Roccatevandro c'è una carenza d'acqua e ci sono rotture continue. Noi abbiamo presentato questo esposto che è di petizione popolare dove praticamente richiamiamo l'articolo 59 dello statuto comunale. Siccome nell'articolo 59 è previsto che le associazioni, il cittadino o anche un singolo individuo può esporre un problema dovuto alla collettività, noi richiamiamo questo articolo per chi non lo sapesse e ci sono tutte le indicazioni che il comune deve adottare in questi casi. Siccome è la responsabilità dei disagi che succedono nei confronti cittadini e soprattutto politica comunale amministrativa, noi richiamiamo questo articolo sperando che si vignano dei provvedimenti perché purtroppo i cittadini non ce lo fanno più perché in questa situazione ci sono due disservizi, uno è legato alla mancanza di acqua e l'altro è legato alla viabilità perché le continue rotture, le continue lavori, il continuo smuovere, il manto stradale creano disagi anche per chi deve poi circolare con la propria auto. Noi speriamo che questa cosa venga colta, speriamo che qualche consigliere comunale entro i 30 giorni prenda atto di questo e lo porti in consiglio comunale perché questa situazione legata all'acqua deve essere risolta definitivamente per tutti quanti i cittadini di Rocca Levantra. Ripeto, la politica è a servizio della collettività, bisogna fare le cose fatte bene per i cittadini. Un saluto a tutti, quindi vi invito, qui ci sono i moduli, ho chiamato Giuseppe per mettere le firme e per cercare di trovare una soluzione definitiva a questo andoso problema. Grazie a tutti.